E questi sono quei video che una persona non vorrebbe mai fare ragazzi. Bene, ciao a tutti, Mauro Caimi, bentornati in questo nuovo video analisi della settimana. È una catastrofe finanziaria, un crash incredibile, soprattutto per la borsa italiana, per quello che sta avvenendo a causa del problema del virus, che sta attaccando metà pianeta in pratica e mettendoci alle strette, ma soprattutto facendoci capire anche quanto è debole l'interconnessione economica, ragazzi, queste cose che derivano dalla globalizzazione e quanto è difficile in questo momento cercare di vedere il lato positivo. Tutti i grafici, tutti quelli che sono gli indici mondiali della finanza stanno crashando, stanno colando a picco, ragazzi. Questa è la mia terza crisi finanziaria che vedo con i miei occhi e qui mi vuole dirlo, però è una verità, insomma è una degna lezione a chi si approccia ai mercati senza la dovuta preparazione e soprattutto senza la dovuta esperienza, ragazzi, perché i mercati negli ultimi dieci anni ci hanno abituato a dei rialzi consistenti e costanti con una volatilità ridicola, ragazzi, rispetto agli anni precedenti. Chi è del mestiere sa bene quello che sto dicendo. Questa cosa non è mai stata normale, lo sapevamo tutti quanti e quando si arriva poi a vedere quello che capita in questo tipo di crisi che, guardate bene, ancora non si sa neanche a che punto siamo, ragazzi. Quindi potrebbe essere solo l'inizio di una fase ribassista. Poi si fanno sempre i soliti errori e, insomma, ragazzi, ne sto vedendo di tutti i colori in questo periodo e quindi, insomma, vi dirò anche una cosa tra un po' che potrà aiutare magari molti di voi in questa fase. Ma, mi duele dirlo, appunto, si fanno sempre gli stessi errori. Il famoso comprare a sconto, soprattutto per chi non è abituato, non ha esperienza, ragazzi, attenzione a comprare titoli in questo momento contro un treno a 200 km orari che vi viene in faccia perché non è assolutamente una strategia corretta, è una strategia assolutamente sbagliata, ragazzi, se non siete investitori, professionisti, conformazioni alle spalle, non fate questa strategia. Non mi scorderò mai di dire questa cosa, come lo dissi già a gennaio 2018, sui mercati delle criptovalute, ragazzi, va bene? Ok, adesso andiamo a guardare quello che è davanti a noi il profondo rosso dei mercati, dei grafici e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Piccolo incipit, intanto, ragazzi, questo canale in questa settimana farò più video possibili, quindi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per seguire tutti gli aggiornamenti di tutti i mercati generali, ragazzi, non solo delle cripto perché io guardo tutti i mercati. Ho in serbo anche per voi un SOS che ho creato questa mattina, alle 6 del mattino, ragazzi, mentre facevo operazioni per ricalibrare i miei portafogli, quelli soprattutto sui livelli opzioni che nell'ambito di Bitcoin, ragazzi, c'è stata molta volatilità anche questa settimana. Alle 6 ho creato questo nuovo servizio di SOS che vi dirò probabilmente domani in un video, che potrà essere utile a molte persone, a molti di voi che magari sono in panico in questo momento, ragazzi. Io faccio il possibile per quello che posso e penso che sia giusto per tutti dare una mano a chi è nella barca insieme a noi in questo momento. Andiamo a guardare tutto quello che sta capitando, ma per chi vuole un'analisi più approfondita sulla ciclica di Bitcoin, sul mio canale Telegram, ragazzi, è gratuito. Trovate il link in descrizione. Ieri sera ho pubblicato l'analisi ciclica prima di questa cosa che avete visto, quindi andatevi a vedere, è gratuito. Il link lo trovate in descrizione nel video, ragazzi. Pubblicherò di più sul canale Telegram in queste fasi concitate, magari quello che riguarda solo ed esclusivamente il mercato criptovalute. Andiamo a spostarci, andiamo a vedere l'SP500 per vedere se c'è un paracadute in questo momento sul mercato e dove potrà avvenire. Allora, come vi avevo detto la scorsa settimana, ragazzi, dovremmo essere in una fase di chiusura di un ciclo annuale. Il problema è che questo è un ciclo molto forte e quindi non si sa dove andrà a chiudere. Siamo scesi sotto i minimi della settimana del 4 di febbraio e del 24 di febbraio, settimana pre-influenza della Federal Reserve. Quindi poi abbiamo visto gli effetti del taglio dei tassi da parte della Federal Reserve con questa settimana che sembrava che fosse stata una settimana di ripresa, ma vi avevo anche accennato che una forma di questo tipo, con questo spike, era altamente negativa. Allora, senza disperare, ragazzi, che poi serve a poco, andiamo a vedere intanto dove sono i livelli di supporto per lo Standard & Poor's 500 americano. Guardiamo in America, ragazzi, perché in questo momento è un faro. Poi guarderemo anche l'Italia, soprattutto un titolo, per vi farò vedere due cose. Lo spread italiano in fase assolutamente pericolosissima, di nuovo, e poi la nostra azione, un'azione che è, diciamo, una stocks italiana che è un nostro faro che purtroppo, ragazzi, è tornata ai livelli del 1995, ragazzi. Non so se vi rendete conto di quello che sta accadendo in questi giorni. Questi sono i livelli dello Standard & Poor's 500, ragazzi, livelli di congestione. Questa fase qui, questa è la fase con i livelli di supporto di questo mercato. Va bene, ragazzi, sta andando giù pesantemente. Andiamo a vedere, a proposito, quant'è stata la flessione. Andiamola a calcolare con il range di prezzo dai massimi all'attuale momento. Più o meno qui siamo intorno a un meno 20, ragazzi. Meno 20%, 580 punti. Non è neanche tantissimo, se poi, ovviamente, facciamo riferimento a mercati come i Bitcoin, che l'ha fatto solo ieri questa percentuale. Quindi meno 18, meno 17%, ragazzi, è ancora accettabile. Però badate bene, ragazzi, che qui parliamo di un mercato come quello americano Standard & Poor's 500, dove un meno 50 è una cosa, insomma, una crisi finanziaria che si ripercuote sull'economia reale in maniera grave. Ragazzi, questa è un'altra cosa che volevo dire un po' a tutti. Quando noi guardiamo i grafici, vediamo quello che facciamo. Non è solo per speculare o per fare operazioni di trading ai fini speculativi, ragazzi. Anche per guardare quello che capiterà alla nostra vita entro i prossimi due, tre mesi, ragazzi. Perché se questo ribasso non si placherà, se la struttura del PIL mondiale andrà in recessione, pesantissima come stanno scontando i mercati in questo momento, ne vedremo le conseguenze sulla nostra vita personale entro due mesi. Queste cose non sono fuori dal nostro contesto sociale, ragazzi. Sono il nostro contesto sociale, non lo dimenticate. Quindi questi sono i livelli che dovete monitorare in questo momento, 2009-2005, uno spazio enorme. Probabilmente il mercato troverà resistenza, supporto, scusate, in questa fase e potrà fermarsi un po'. Questo per quanto riguarda lo standard.500, non fanno eccezione nessuna delle stocks più importanti. Qui abbiamo Apple, però, ragazzi, non è aggiornata. Non so perché non mi dà il grafico aggiornato. Vabbè, comunque, anche Apple è in ribasso. Qui è Zoom, invece, ragazzi, che è l'unica che mantiene un pochino, quindi perde pochissimo. Abbiamo Shopify ancora in ribasso, abbiamo visto l'altra volta, anche Netflix inizia a perdere, ma Netflix e Zoom, ragazzi, sono i titoli migliori in questo momento perché si lavora, si sta a casa e quindi sono servizi più importanti. Anche Tesla, ragazzi, guardate un po' quello che sta facendo. Insomma, era anche salita tantissimo. Guardiamo anche Amazon, per esempio, in questo momento. Vedete, anche Amazon regge tanto, perché rispetto agli altri, ragazzi, Amazon regge, devo essere sincero, però ancora una volta, anche qui abbiamo una fase abbastanza pronunciata. Guardiamo anche Facebook, ragazzi, vedete, sono tutte nello stesso barca. Ma la peggiore situazione di tutti ce l'abbiamo con questo titolo, ragazzi, che questo è il petrolio. Il petrolio in questo momento è il nostro rappresentante di quello che sta succedendo, di questa crisi, che non è una crisi finanziaria, ragazzi, è una crisi dell'economia reale perché un tasso di diffusione del virus in questione è quello che sta combinando, è un rallentamento grave della produzione nel mondo. ed è stato ancora presente solo, ragazzi, in Cina e un po' in Corea, Italia, Iran, ma negli altri grandi potenze economiche questo virus ancora non ha creato alcun scompiglio, ragazzi. Cosa può succedere se questo tipo di virus va a finire in economie importanti come quella USA o tedesca? E' questo il grave, in dubbio, la grande paura di questo momento, ragazzi. E noi andiamo a vedere il petrolio che è tornato, ragazzi. Guardate un po' sui livelli di minimo degli anni 2000. Mi viene da ridere perché, per non piangere, comunque, a livello ciclico ha anche definito un ciclo ribassista abbastanza evidente che potete vedere qui, ragazzi, guardate che struttura incredibile, incredibile, dieci anni di ciclo, ragazzi, economico del petrolio. Quindi mai più ripreso dalla bolla del 2008, vedete che era qui, insomma, ed è tornato indietro pesantemente. Sul petrolio, ragazzi, c'è da fare un'analisi fondamentale perché in questo momento, io lo uso a livello di trading, non lo uso minimamente, ma soprattutto lo uso invece per capire quello che è la situazione odierna relativamente al momento storico. Quindi rallentamento della produzione e del PIL. Passiamo invece all'unico titolo stabile in questo momento che guardiamo nella nostra scansione, che è il gold, ragazzi, che invece si mantiene ai massimi storici, dimostrando un bene rifugio. Cosa che non ha fatto, bitcoin, che lo vediamo qui, ragazzi, bitcoin. Eccolo qui, con i suoi livelli di supporto che sono stati tutti bucati, adesso sono diventati queste resistenze. Bitcoin non è un bene rifugio, l'ho detto più volte, è un bene diverso rispetto al resto del panorama degli strumenti finanziari. però, insomma, ragazzi, viene spesso erroneamente considerato un bene rifugio. Allora, dove siamo su bitcoin? Andatevi a vedere l'analisi ciclica sul mio canale Telegram, l'ho pubblicata ieri, non mi ripeto, però vedete quello che ha fatto in tre giorni anche la criptovaluta più importante, che non lascia spazio neanche lei. Insomma, guardate qui, ragazzi, solo in questi tre giorni abbiamo avuto un meno 17%, ragazzi. Se poi andiamo a vedere dai massimi di qualche giorno fa, ragazzi, questo è semplicemente il 13 di febbraio, quindi una ventina di giorni fa, stiamo parlando di un meno 27% di oscillazione. Cosa non strana per quanto riguarda le criptovalute, ma sicuramente non possiamo dire che è stato un bene rifugio. Andiamo poi a guardare gli ultimi grafici e concludiamo il video, ragazzi, con lo spread italiano. Spread italiano, ragazzi, che si impenna a un più 30% rispetto al bundo tedesco e si riporta in aria di tensione. Ragazzi, è una situazione pericolosissima, perché in questo non è un problema di natura politico, non è un problema come era stato il precedente governo, che non piaceva ai classici finanziatori esteri italiani e quindi non prestavano i soldi e lo spread era alto. Questo è un problema di natura macroeconomica, di natura produttiva, il blocco di un paese. La paura che a livello di capacità restitutoria non sia possibile, per quanto riguarda il nostro paese, restituire i nostri debiti. Chi aiuterà l'Italia? Qui ci sarebbe da tirare su un polverone, ragazzi, perché vorrei, anche la vostra opinione a tal riguardo, chi aiuterà in questo momento l'Italia? La BCE ha i tassi già a zero. Cosa farà la nostra banca centrale? Come interverrà? Fa o non fa? Un nuovo quantità di vising? E poi anche una domanda, io la vorrei fare. Che cosa serve più questo tipo di politica che abbiamo visto aver avuto risultati completamente inutili negli ultimi dieci anni, almeno per l'economia del paese italiano. Spread, ragazzi, è salito in un'area di tensione. Non siamo ancora nell'area di altissimo pericolo, che come vedete qui monitoreremo anche questa cosa costantemente sul canale, quindi iscrivetevi, ragazzi. Ovviamente, se volete, sempre aggiornamenti nuovi. Chiudo con un paio di grafici finali questa carrellata. Questa è, ragazzi, Eni. Questa è Eni, il nostro. La nostra azione più famosa da un punto di vista di marchio italiano, di brand italiano, ragazzi, vi metto il mensile. Qui non ci sono i dati, perché TradingView non ne dà i dati precedenti al 2001. Vi assicuro che i minimi toccati da Eni, oggi che è bloccato a meno 20, ragazzi, sono i minimi del 1995. Ok, ragazzi, 1995. Siamo tornati indietro nel tempo di... Quanto so? Tanto, ragazzi. Veramente tanto. Non riesco nemmeno a pensarci. Ma poi perché questa fase di ribasso? Perché Eni è fortemente collegata al petrolio, ragazzi. E quindi, essendo collegata al petrolio, ritorna ai prezzi di 25 anni fa, ragazzi. 25 anni fa. Una generazione. Dollaro contro... Euro, insomma... Insomma, euro contro dollaro, scusate, ragazzi. Allora, qui, questi maxi rialzi... Sì, sì, barra di congestione, ancora siamo nei limiti. Dobbiamo capire ancora se la nostra banca centrale farà un intervento. In questo momento il mercato sconta un taglio dei tassi della Fed ulteriore, oltre a quello già fatto, per salvare un po' l'economia e il tutto. Quello che penso io in conclusione di questo video... Vi ricordo che già domani, se riuscirò, farò altri video a tal riguardo, perché ci sono una serie di argomenti da guardare, una serie di cose da guardare. Quello che penso, ragazzi, in questo momento storico, è che bisogna mantenere la calma. Chi di voi è investito, come già la scorsa settimana vi avevo spiegato all'interno di un video, che vi lascio qui su, magari, se riesco, perché era come comportarsi quando i mercati crashano. Vi avevo spiegato di andare via dai mercati, perché, soprattutto, se non era nella vostra strategia, non è il caso di restare, di non accumulare e quant'altro. Magari se ci sarà modo e motivo da parte dei mercati finanziari di cambiare direzione, lo diremo sul canale, come sempre facciamo. Le mie conclusioni sono che questo è un momento particolarmente delicato, perché è una crisi finanziaria che non è incentrata su una crisi di natura esclusivamente indotta da politica o da finanza, ma è una crisi che si sta ripercuotendo sulla struttura fondamentale del sistema economico e non abbiamo, in questo momento, contezza se questa cosa rientrerà. Non sappiamo nemmeno se si svilupperà al punto tale da colpire anche altri stati importantissimi, come gli Stati Uniti, benché ragazzi probabilmente c'è già arrivata e fanno finta di nulla proprio per evitare questo discorso. Scusatemi ogni tanto anche questo complottismo, però mi sembra un po' doveroso anche dire le cose come stanno. Penso che la problematica relativa al coronavirus si risolva, probabilmente, in maniera naturale poi, con gravi, gravi perplessità però che lascerà al nostro mondo, diciamo così, alla nostra vita quotidiana, questa globalizzazione, sì o no, un bel quesito. Ci vediamo domani ragazzi con un altro video, mi raccomando, nervi saldi, ciao a tutti.